L'economia, sia locale che nazionale, non sta vivendo un periodo facile, forse il più difficile in assoluto. C'è una stasi che immobilizza le imprese, in particolare le piccole, quelle che rappresentano un serbatoio di assoluta ricchezza per il territorio. E la politica? Fino ad oggi non ci sono state manovre capaci di risollevare le sorti. È chiaro, ha dichiarato il direttore di Confartigianato Rieti, Maurizio Aluffi, che tutto dipende dalla sfera politica, laddove vengono prese delle decisioni che ricadono sul tessuto sociale ed economico. In tal senso, Aluffi ricorda come la burocrazia sia fortemente penalizzante per le imprese che vivono schiacciate dal credito. Confartigianato ha da sempre alzato la voce in merito, avanzando proposte che non richiedevano questi investimenti economici, ma soltanto decisioni, manovre politiche. Da anni, continua il direttore, chiediamo che vengano riassegnate le tante aree industriali di Vazia, quelle non edificate, che potrebbero essere una giusta collocazione per le imprese che vogliono investire. Altro punto nodale è come le delibere rimangano sui tavoli. Più di un anno fa, ricorda Aluffi, abbiamo fatto fare una delibera con la quale si voleva aiutare la creazione d'impresa, le start-up e con essa i giovani, il futuro. Che fine ha fatto? È tutto fermo. Certo è che in tutto questo fattore importante diventa il tempo. Oggi è necessario accelerare, velocizzare ciò che negli ultimi anni non è stato fatto. E proprio Confartigianato ha, tra le richieste fatte, posto l'accento sull'accelerazione dei tempi per il recupero delle aree dismesse del nucleo industriale, aree quasi tutte in mano al tribunale, quindi di difficile e prolungata risoluzione. Intanto chi vuole investire cambia traiettoria e va altrove.